durante i miei seminari seminari che porto in giro per l'italia con barbera parrucchieri ed estetiste mi chiedono spesso se la prima impressione in salone conti veramente così tanto ed io mi sono stancato a dire la verità di ripetere sempre la stessa identica cosa e ne parliamo tra poco dopo la sigla benvenuta e benvenuto a questo nuovo podcast per l'esattezza la puntata numero 9 del podcast marketing beauty un podcast appunto dedicato al mondo dei parrucchieri e dell'estetista al mondo del barber mondo del beauty in senso generale ascolta il programma e se ti piace condividilo con tutti i miei colleghi e naturalmente su tutti i social e nella puntata di oggi parliamo di prima impressione in salone e ti do al volo immediatamente la classica risposta che do a tutte le persone che mi contattano durante i miei seminari e che mi fanno la stessa domanda e io rispondo sempre nello stesso identico modo sì assolutamente sì ma certo che la prima impressione in salone conta vedi molti amici parrucchieri o barbera o anche amiche estetiste non si rendono conto di come piccole piccolissime cose date per scontato contribuiscano in positivo ma anche spesso in negativo a creare l'immagine che il salone offre ai propri clienti ai tuoi clienti in parole ancora più semplici a dare la prima impressione alla mitica signora rossi se lavori con le donne o al signor bianchi se lavori con i maschietti come me questa famosa prima impressione è dura durissima da cambiare ed una volta che la cliente si è fatta un'idea di noi del nostro personale del nostro salone è difficile che sia portata lei la mitica signora rossi a cambiarla nel tempo ma da dove nasce questa benedetta prima impressione beh intanto sappi che non avrai mai una seconda occasione per fare una buona impressione questo è quello che dicono e affermano gli americani che sul marketing le tecniche di vendita la comunicazione sono senza alcun dubbio dei maestri molto più bravi di noi e molti ma molti anni fa ahimè quanto tempo è passato quando ero ancora giovine un giovine marketer che girava l'italia del nord in particolare passavo da parma a treviso da treviso a milano da milano a parma e poi tornavo indietro ricordo di aver letto una bellissima ricerca pubblicata allora dall'università di stanford negli stati uniti la ricerca datata 2003 affermava che la prima impressione che facciamo alle persone ovviamente dipende per il 90 per cento dal nostro aspetto oggi siamo nel 2019 e sono passati ben 16 anni quella ricerca è ancora attuale terribilmente attuale oserei dire all'epoca la psicologa americana sherman white affermava il nostro guardaroba dice di noi molto più di quanto noi possiamo dire a parole beh per il rispetto che nutro nei confronti della white in punta di podcast mi viene da dire mi permetto di parafrasare la sua frase farà diventare il tuo salone dice di te molto di più di quanto tu possa dire a parole ed ecco che la prima impressione diventa fondamentale ma quali sono gli elementi che creano questa benedetta prima impressione in salone sono almeno sei gli elementi importanti che aiutano la mitica signora rossi o anche signor bianchi a farsi a crearsi la sua prima impressione nei tuoi confronti nei confronti del tuo personale ed anche del tuo salone al primo posto c'è l'immagine che tu come titolare hai poi c'è l'immagine che il tuo personale ha l'arredamento del salone la pulizia del bagno si hai sentito benissimo la pulizia del bagno ma anche la pulizia del salone ed infine la vetrina e allora se hai un po di pazienza vediamo punto per punto tutti e sei gli elementi cominciando con l'analizzare l'immagine che tu come titolare hai e trasmetti l'immagine del titolare del salone più volte ho scritto che l'abito fa il monaco non mi ricordo più quante volte d'oggi posso tranquillamente affermare che la prima impressione è quella che conta conta per me e conta anche per te a creare questa prima impressione appunto la nostra immagine la tua immagine la mia immagine e tale immagine è data principalmente dall'abbigliamento che indossiamo meglio dallo stile di abbigliamento che abbiamo un titolare di salone dovrebbe il condizionale d'obbligo essere sempre ben curato nonno uomo che sia la sua immagine fondamentale a mio modesto avviso in altresì importante che il suo abbigliamento debba essere sempre in stile con l'ambiente con quello del personale è chiaro che il parrucchiere è di per sé una persona creativa sì lo so voi siete creativi siete degli stilisti ma la vostra creatività nell'abbigliamento dovrebbe avere libero sfogo solamente se il parrucchiere l'acconciatore lo stilista ha una forte fortissima personalità capace di creare dunque un personaggio in salone se così non è è sempre meglio che mantenga uno stile elegante e in linea con l'ambiente del salone e vediamo l'immagine del personale del salone mi è capitato più volte di vedere ragazze che lavoravano nello stesso salone con magliette e camicette di taglio e forme completamente diverse magari tutte nere se quello era il colore del salone o tutte bianche se in quel caso avessero scelto quel tipo di colore ma pur sempre diverse e invece l'immagine del personale che sua volta si rispecchi ancora del salone passa anche e soprattutto da un format univoco unico una divisa identica per tutti e quando fermo tutti sottolineo tutti anche il titolare del salone laddove non abbia quella forte personalità capace di creare un personaggio doc con il suo abbigliamento come abbiamo discusso come abbiamo accennato prima ma anche eventuali soci del titolare dovrebbero essere come dire indivisa oppure i famosi parenti coloro che lavorano spesso e volentieri all'interno dei saloni le mogli i mariti i fratelli gli zii eccetera eccetera tutti con la stessa identica divisa nessuno escluso tutti e sottolineo e ripeto tutti dovrebbero indossare il solito abito i soliti colori il solito format di abbigliamento perché l'immagine del salone data anche dal vedere come tutto il personale sia perfettamente abbigliato nella stessa maniera abbia gli stessi colori lo stesso format e qui ogni parrucchiere ed estetista può sbizzarrirsi un po come vuole scegliere la divisa più consona per il proprio salone talvolta forma una divisa anche un comunissimo jeans con sopra una polo una magliettina una camicia identica per tutti meglio a mio avviso se marchiata con il logo con il brand del salone ma quello che non è accettabile lo voglio dire da questo podcast è la libera interpretazione ognuno come cavolo vuole vestita o come cavolo vuole come decide si alza la mattina si mette la camicetta jeans oppure la gonna eccetera eccetera no nessuna libera interpretazione dove ognuno si veste come vuole o comunque interpreta al suo libero giudizio il format del salone in base all'armadio come apre l'armadio quella mattina no pensa che se io fossi un parrucchiere o una estetista sarei così esigente che se avessi un salone tutto mio se una persona mi arrivasse una mattina senza indossare la divisa la rimanderei a casa a prenderla se vuole lavorare con me e veniamo adesso all'arredamento del salone ogni salone ha un suo stile ed ogni stile incontro all'approvazione di un suo pubblico ben preciso e sto affermando che prima ancora di far lavorare l'architetto per la progettazione del tuo arredamento l'arredamento del tuo salone tu dovresti ancora il condizionale aver ben chiaro a chi vuoi vendere i tuoi servizi eh sì non puoi avere un salone per tutti anche l'arredamento contribuirà a selezionare la tua clientela che ti piaccia o no a rafforzare l'immagine messaggio con un certo tipo di clienti al contrario non piacerà ad altri è così che funziona non puoi essere un tuttologo per tutti non puoi andare bene a tutti ma ad una nicchia di clienti sì e la cosa peggiore che tu possa mai fare è quella di avere un salone con dentro po tutti gli stili di arredamento o comunque mescolarli perché se opti per uno stile moderno non soltanto dovrà essere moderno l'arredamento del tuo salone ma anche il format di abbigliamento del tuo personale i colori i colori predominanti del salone lo stile delle vitrine il format di taglio e di proposta dei tuoi servizi insomma dimmi che tipo di arredamento hai in salone ti dirò chi sei e a chi devi vendere i tuoi prodotti e i servizi sì lo so forse ho esagerato con quest'ultima frase ma è senza alcun dubbio che lo stile di arredamento del tuo salone influenzerà oltre all'immagine anche la tipologia di clientela e sappilo non a tutti piacerà dunque devi scegliere a chi rivolgerti ed eccoci alla pulizia del bagno e questo come dire è il tallone di achille di molti parrucchieri ed estetiste perché vedi si dà troppo per scontato o meglio si dà troppo spesso per scontato che il bagno debba servire alla cliente di turno per come dire fare pipì esclusivamente i suoi bisogni fisiologici ma non è così un bagno un bagno pulito è l'anima del salone un bagno un bagno pulito è il tuo miglior biglietto da visita perché il tuo biglietto da visita cartaceo io posso anche dimenticarlo posso anche perderlo posso anche metterlo nel cassetto e non trovarlo più ma un bagno un bagno pulito lindo e profumato mi rimane impresso e soprattutto colpisce me a livello emozionale e colpisce i tuoi clienti a livello emozionale proprio perché non tutti fanno del loro bagno il loro biglietto da visita pensaci bene tu tu che mi stai ascoltando entrando in un bagno sporco trascurato che impressione ne ricevi di quel luogo te lo dico io associa al bagno sporco tutta un'altra serie di emozioni che inevitabilmente in questo caso saranno di natura negativa perché per l'effetto alone se associa ad un salone un'emozione negativa per esempio il bagno sporco trascurato la tua mente associerà in automatico altre valenze negative vale per te vale per me vale per i tuoi clienti e la bella notizia è che l'effetto alone funziona anche con associazioni positive e se vai sul mio blog marketingparrucchieriestetiste.it troverai tantissimi post in cui parlo proprio dell'effetto alone faccio degli esempi insomma il bagno del tuo salone dovrebbe essere più pulito e più curato di quello di casa tua e veniamo alla pulizia del salone alla pulizia in salone vedi la pulizia del bagno va di pari passo con la pulizia di tutto il salone e quando parlo di pulizia non mi riferisco unicamente al pavimento o alle mensole bensì anche ai muri se sono di colore bianco devono continuare ad esserlo un salone pulito profumato invita le persone a sostarvi più a lungo e tu come professionista della bellezza sai bene che più tempo passa la signora rossi sulla poltroncina di taglio o sul lettino del massaggio e più la cliente è predisposta a spendere a provare nuovi prodotti o servizi ma indubbiamente la pulizia del locale è sinonimo di igiene e l'igiene di un parrucchiere di un barber o di un estetista dovrebbe essere sempre perseguita come obiettivo primario pensa ad esempio alle forbici o rasoio sterilizzati ed ancora al coprilettino in carta quello che viene tolto è cambiato prima che la cliente vi si stenda sopra e al tuo posto farei pulizia o farei pulire meno ancora la zona di taglio subito dopo ogni lavoro se non addirittura mentre si sta lavorando così come farei pulire e igienizzare ogni lettino e ogni postazione di lavoro subito dopo un massaggio una ceretta o qualsiasi altro servizio di bellezza non darmi del maniaco ma la pulizia e l'igiene del salone non soltanto aiutano a creare immagine ma in un mondo pieno di concorrenza potrebbero persino essere elementi differenzianti ed eccoci infine alla vetrina per ultima ma non meno importante la famosa vetrina in salone non so se ne hai quante ne hai ma la vetrina è troppo spesso lasciata a se stessa trascurata non curata nei minimi dettagli nei minimi particolari e soprattutto valorizzata per quello che merita a mio avviso andrebbe cambiata tutte le settimane fatta fare a chi è professionista in questo ci sono i vetrinisti ci sono i merchandiser capisco che talvolta gli investimenti siano importanti e che non tutte le settimane si possano sostenere ma cazzarola insomma una vetrina importante ogni tanto andrebbe fatta e in questo caso potrebbe essere utile per te fare un corso di vetrinistica e apprendere almeno le basi per creare una vetrina decente perché la vetrina non soltanto concorre a creare immagine in salone ma è anche uno straordinario strumento di vendita se fatta bene la vetrina diventa strumento di vendita visiva dove cioè i prodotti esposti vetrina riescono a parlare tra virgolette con la clientela e quasi sempre ad auto vendersi da soli anche sotto questo aspetto in questa tematica se vai sul mio blog marketing parrucchiere estetiste punto it trovi tantissimi post in cui parlo proprio come come progettare come realizzare una vetrina come organizzare una vetrina che faccia vendere i servizi e i prodotti e siamo arrivati alla fine in chiusura di questo lungo lunghissimo podcast voglio ricordarti che l'immagine del tuo salone è data dalla somma di tutte queste immagini di cui abbiamo parlato che abbiamo analizzato poc'anzi con te l'immagine del tuo salone la crei o la distruggi ogni giorno attraverso tutte e sottolino tutte le attività che tu e il tuo personale svolgete grandi o piccole che siano anche un banalissimo sorriso dato o non dato alla signora rossi di turno crea o distrugge l'immagine del tuo salone non dimenticarlo mai ricordati dunque che il tuo aspetto l'aspetto del tuo salone quello del tuo personale sono ciò che gli altri vedono di te prima ancora di sapere come tagli i capelli sistemi la barba fai un massaggio potresti essere straordinariamente brava o bravo in tutto ciò ma la prova delle tue competenze le tue competenze professionali artistiche verrà sempre e sottolino sempre dopo la prima impressione che la signora rossi entrando nel suo salone o meglio nel tuo salone si sarà fatta cara amica e amico che mi stai ascoltando da questo podcast ricorda che la prima impressione è quella che conta e se desideri emergere dalla massa dei tuoi concorrenti impara a costruire la tua immagine meglio l'immagine del tuo salone e siamo arrivati alla fine di questo lungo lunghissimo podcast dedicato all'immagine alla prima impressione in salone io sono giaccaro fornei un coach un formatore un esperto di comunicazione nel beauty giro l'italia formando parrucchieri estetiste barber in ogni angolo d'italia da ragusa trieste tanto per come dire per citare le due estremità e ti invito a venirmi a trovare sul mio blog principale che è marketing parrucchieri estetiste punto it dove trovi a iosa una marea di contenuti testuali video oppure podcast come questo e se hai una domanda anche tu scrivimi a info chiocciola giancarlo fornei punto com ti risponderò con un podcast un video oppure con un post oppure la dove tu la domanda sia molto personale lo farò personalmente scrivendoti un'email la sigla di apertura di questo podcast è di jason show che distribuisce musica di qualità con la licenza creative commons 3.0 il suo sito è audionautix.com grazie jason e grazie naturalmente a te per aver ascoltato questo podcast sino all'ultimo secondo e mi raccomando ricorda che la prima impressione del tuo salone conta e conta davvero tanto